Dal primo febbraio Piacenza avrà un nuovo questore. Salvatore Arena andrà infatti in pensione per inderogabili limiti di età e al suo posto prenderà servizio in Viale Malta Pietro Ostuni. Originario di Altamura, 58 anni da compiere a fine marzo, laureato in giurisprudenza, ancora per qualche giorno Ostuni sarà questora da Osta. Troppo presto per entrare nel dettaglio della realtà piacentina, anche se il neo questore ha già preso informazioni su città e provincia. Ne ho sentito parlare molto bene come una città laboriosa, piena di ricchezze culturali, so che ha presentato anche la sua candidatura per essere nominata città della cultura, quindi sicuramente sarà una bellissima città. Piacenza è una città importante, io sono riconoscente al signor capo della Polizia, direttore generale della pubblica sicurezza che mi ha conferito questo incarico. Cercherò di svolgere questo mio combito con il massimo impegno al servizio della città e della intera provincia. Ostuni vanta una lunga esperienza alla questura di Milano, dove si era occupato dell'ufficio immigrazione e soprattutto dell'ordine pubblico dell'Expo 2015, un'esperienza davvero unica. Insieme a una squadra di colleghi ci siamo occupati di questo evento importantissimo per Milano, che ha dato lustro al Paese, lustro alle forze dell'ordine che hanno gestito veramente molto molto bene questo evento delicatissimo. C'è stato un lavoro di squadra che ha dato i suoi risultati, io ero uno dei componenti e sinceramente sono orgoglioso di aver fatto questo evento. I piacentini impareranno a conoscerlo dal prossimo primo febbraio. Grazie. Grazie.